Ma questa è una novità assoluta, perché quando c'è stata la prima grave vicenda della Sea Watch 3 di qualche giorno fa, noi abbiamo lanciato un appello per la solidarietà e per la concretezza degli aiuti umanitari e siamo stati piacevolmente e in maniera commovente travolti da migliaia di mail di persone di Napoli, ma non solo di Napoli, tutta Italia, tutta Europa e del mondo, che non solo esprimevano vicinanza a questa lotta per l'umanità, ma la voglia di dare un contributo economico, umanitario, materiale, apertura delle proprie abitazioni, imbarcazioni, medici, avvocati, psicologi, di tutto. Siccome noi abbiamo dimostrato in questi anni, parlo come amministrazione comunale, perché questa è una questione istituzionale, umanitaria e prima ancora che politica, siccome siamo l'amministrazione dell'ascolto e della partecipazione, ci è venuto in mente di trovare un luogo della città, in questo caso il Teatro Augusteo, uno dei teatri più grandi della nostra città, per invitare le persone che avevano manifestato questa concretezza nella solidarietà, perché purtroppo non è stato certo un caso isolato, quello della mobilitazione all'altra volta, ma le vicende, mentre vi sto parlando, abbiamo un'altra imbarcazione, una Sea-Watch, ferma a oltre un miglio a largo di Siracusa, quindi l'obiettivo è quello di decidere insieme come continuare. Questa è una novità assoluta credo nel panorama nazionale, quello di chiamare persone che hanno scritto una mail per decidere insieme. Noi alcune idee ce le abbiamo, le illustreremo adesso, sia illustreremo al teatro e alle persone presenti e grazie a voi, anche a tanti altri, quello che il Comune ha fatto e sta facendo in generale per le fragilità, non parliamo solo dei migranti, ma in questo caso stiamo discutendo soprattutto di persone che rischiano di morire in mare e siamo pronti ad accoglierle. Credo anche che apriremo una sottoscrizione perché è necessario munirsi anche nel caso in cui la disumanità di questo governo e l'antigiuridicità di questo governo e di altri governi dovesse continuare, come già abbiamo a disposizione, dobbiamo implementare una flotta napoletana perché potrebbe diventare necessario andare a salvare delle vite umane, perché questi giocano con capricci politici sulla pelle dei più deboli. Io sono molto contento del fatto che in questo momento Napoli è testimonianza insieme ad altre città, altre associazioni, altri comitati, di un volto umano rispetto a questa raccapricciante disumanità che utilizzando lo schermo del potere formale del governo per fare un becero consenso politico lucrano sulla pelle delle persone. Questa è una cosa che non si può accettare. Quindi questa mobilitazione si fermerà appena si arresterà la disumanità dei governi occidentali. Con queste ore appunto una nave della Sivuoc è omeggiata a largo di Siracusa. Ieri il ministro Salvini e il ministro Toninelli hanno detto che la Sivuoc batte bandiera olandese e ci pensasse l'Olanda. Quando parlavo di disumanità queste affermazioni così roboanti di questi due ministri dimostrano che abbiamo ragione. Il ministro Toninelli che continua a dire insieme a Salvini che i porti sono chiusi e dice una balla giuridica. Io non vedo l'ora di poter fare un confronto con questo scienziato del diritto che è il ministro Toninelli perché ci dovrebbe anche dire se il porto è chiuso ci dovrebbe notificare un'ordinanza. Forse dovremmo far capire che un'ambarcazione come la Sivuoc col mare Forza 8 andare dalla costa meridionale della Sicilia fino all'Olanda sono almeno 15-20 giorni di navigazione. Quindi complimenti. Un bellissimo modo di rappresentare il nostro paese. Io non mi sento per nulla rappresentato da questo governo. Il che dico una cosa grave perché il nostro governo è il governo della Repubblica italiana che è la nostra Repubblica e la cosa più agghiacciante è che quando avemmo la prima conversazione con l'equipaggio della Sivuoc l'equipaggio ci disse che i migranti non volevano venire in Italia perché l'Italia oggi è percepita come un paese razzista. Quando invece è stata letta la lettera che abbiamo mandato noi e hanno poi appreso di una mobilitazione straordinaria che sta attraversando il nostro paese è scattato un grande applauso. Pensate un po' quanto sia importante far comprendere a queste popolazioni che l'Italia non è diventata l'Italia di Salvini ma che si sta un po' di volta desalvinizzando perché lui ha fatto venire fuori il rancore che cova sotto alla cenere di tante persone. Noi proviamo a far scattare insieme a tanti altri la fiamma dell'amore, della solidarietà, dell'uguaglianza e della giustizia sociale. Quindi è una bella battaglia questa. Per la prima volta diventa una battaglia di tutta prepolitica dove non parliamo di tante cose di cui si parla ogni giorno ma parliamo se rimanere umani o per fare un po' di consenso politico diventare i primi della classe nella disumanità come Salvini e Di Maio ci stanno abituando. Che cosa risponde proprio a Salvini che dice che sia il caso che si occupi più di situazioni della città rispetto ai migranti? Bella domanda questa perché siccome mentre Salvini ancora non si è mai occupato delle città vediamo l'ultima manovra di bilancio che ha prodotto dei tagli agli enti locali ricordo a Salvini ma lui lo sa perché l'abbiamo finora sempre sconfitto che da otto anni faccia il sindaco di Napoli e semmai avverto a profitto di questa domanda il senso di colpa perché in questi otto anni mi sono molto 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 poco occupato dei miei figli e della mia famiglia perché per otto anni mi sono dedicato esclusivamente alla città e ai napoletani aggiungo agli abitanti della città di Napoli perché ci sono i napoletani ci sono i turisti ci sono i migranti ci sono gli americani ci sono i russi i giapponesi i cinesi e ci sono pure gli africani non so che questo dà fastidio a Salvini che quando andava a vedere milan napoli si portava il sacchetto della spazzatura per dare diceva ecco qua i napoletani oggi accoglie magari come ministro dell'interno da tifoso del mio noi siamo sempre gli stessi è lui che cambia un po pelle a seconda del momento politico sindaco questa è anche una risposta ai cittadini napoletani che dicono il sindaco si occupi più della città e non della questione migrante ma quali cittadini napoletani scusi anche sui social molti stamattina c'è stata anche una manifestazione la marea azzurra marea azzurra pensavano ai tifosi del napoli con una spazzoletta azzurro che venivano a chiedere di non vendere all'anna blu io ho visto piacevolmente 50 persone sotto san giacomo che chiaramente noi accogliamo con molto piacere perché siamo città rifugio credo che sono nostri sostenitori perché noi la pensiamo come loro che la città deve essere più sicura più vivibile che deve migliorare anzi chiediamo l'aiuto di queste persone anche di quelli che sono ammalati da rancore possiamo magari provarli a curare abituarli a venire insieme a noi a lottare per la città come dire più di quello che facciamo continueremo a fare abbiamo senza soldi trasformato una città in città della cultura del turismo dell'accoglienza della solidarietà dell'umanità mi occuperò di napoli fino al 2021 poi magari me ne occuperò in un'altra veste ma a differenza di altri io sono sempre lo stesso poi chiaro c'è anche tra questi 50 qualche avversario politico che da anni cerca di portare qualche migliaia di persone in piazza ma non ci riesce aspettassero le elezioni elezioni si vota per due volte si è votato De Magistris tra volte io non ci sto perché non sono candidato quindi forse se la possono giocare certo se questo è il preludio di una campagna elettorale per sconfiggerci sono molto incoraggiato anche da questo assolutamente sindaco intanto ha visto che anche Berlusconi ha preso le distanze da Salvini sui migranti ha detto non sono 47 migranti certamente il problema dell'Italia ma io perciò dico oggi è un tema veramente io non so come dirlo non è un tema di appartenenza partitica io credo in questo momento l'Italia l'Europa e il mondo si devono schierare io per esempio pure non sono un esempio di cattolicesimo praticante anzi sono uno che nella vita ha pure preso posizioni certe volte contro tante cose che non vanno anche nelle gerarchie ecclesiastiche l'ho fatto da ragazzo lo faccio oggi ma io mi riconosco in pieno nelle parole del Papa a Panama che sono parole che mi illuminano come credente, come lettore del Vangelo io leggo il Vangelo, leggo la Costituzione sono un uomo di giustizia che fa i suoi errori nella vita ma che si schiera altri si schierano per ragioni di opportunismo politico e cambiano pelle come fa Salvini a seconda del momento ma con i meridionali e dopo con i neri noi siamo sempre gli stessi quindi non ci interessa se questa iniziativa di oggi ci produce o non ci produce un consenso politico probabilmente ce lo fa perdere ecco, probabilmente ce lo fa perdere perché trovi quello che per strada dice sindaco però con tanti problemi pensi pure a quelli che stanno morendo in mezzo al mare sì, sì, perché sono rimasto umano tra i tanti problemi non riesco ad abituarmi all'idea che nel mar Mediterraneo contiamo i morti sarà un problema mio oggi si riuniscono le persone che hanno questo problema che forse devono andare a uno psicologo infatti ci sono pure i psicologi oggi c'è pure l'ordine psicologico che ringrazio perché ha aderito noi ne abbiamo molto bisogno perché probabilmente di fronte ad altri che si occupano solo di mangiarsi l'arancino e la nutella e farsi i post su Facebook noi probabilmente oggi passiamo un sabato pomeriggio a occuparci dei problemi di Napoli come ho fatto fino a questo momento e per queste tre ore ci occupiamo dei problemi di Napoli perché occuparsi dei migranti significa occuparsi di una città che diventa città esempio nel mondo di umanità, di solidarietà e di accoglienza quindi mi sto occupando di Napoli e chiaramente non è IX quindi si può fare di Napoli